Ciao bambini! Guardate cosa ho comprato lo zaino di Frozen! E guardate anche cosa fa! Avete visto bambini? Ora vediamo cosa c'è qua dentro! Questo è l'astuccio di Frozen! Ecco bambini! Guardate cosa c'è l'astuccio di Frozen! E guardate! Ora vediamo cosa succede! Guardate! Avete visto bambini? Ci sono delle matite! Ora chiudiamo qua! Perfetto! Ora vediamo qua! E guardate! Guardate come pure di colore al spirito! Bello vero! Avete visto? Chiudiamo ora! Bambini, datemi una mano, per favore, guardate, bello vero, ora vediamo, ora lo chiudiamo. Perfetto, bambini c'è una sorpresa davvero per voi, guardate, indovinate, tada, bella, guardate cos'è la bambolina di Frozen, è bellissima, ha anche dei poteri di ghiaccio che può ghiacciare anche ogni cosa, bella vero? Ora vediamo cosa succede, che si illumina, vediamo cosa succede, bambini, si illumina a buio però, non si vede così bene, proprio tutto a buio. Ecco, bambini, mi è piaciuto questo video, buona scuola a tutti, ciao!